Ben ritrovati, oggi sono in compagnia di Vincenzo Introna, sesta generazione della cereria Introna, cereria pugliese dal 1840, importantissima soprattutto per l'esportazione di queste candele artigianali all'estero. Nasciamo come un'azienda ecclesiastica nel 1840, poi io e mia sorella rappresentiamo la sesta generazione, abbiamo aumentato molto le nostre vendite all'estero, soprattutto nell'ultimo anno, fino ad avere anche delle menzioni da parte di testate importanti come il New York Times e questo ci ha reso molto orgogliosi. Ormai il cliente si affaccia a noi e noi facciamo proprio un abito sartoriale, ci indica quali prodotti vorrebbe realizzare e noi insieme con lui capiamo la qualità, il tipo di candela che si può spostare meglio col suo progetto, quindi realizziamo dei campioni che lui può valutare e insieme decidiamo anche di cambiarlo eventualmente o modificarlo secondo le sue esigenze. L'importanza che avete all'estero nel mercato come quello degli Stati Uniti o dell'Asia come mi diceva prima è anche un grande investimento sul capitale umano che fate? Sì, infatti ultimamente abbiamo anche dovuto e potuto assumere diverse persone che contribuiscono e ci aiutano a solvere tutti gli ordini che sono pervenuti nell'ultimo periodo. Speriamo di poter continuare in questa maniera per poter dare sia un maggior lavoro e un maggior riconoscimento anche al Made in Italy. In media quanto ci vuole per realizzare una candela? Qual è il processo creativo? Soprattutto dipende dal tipo di candela, per ogni candela viene montata completamente a mano, quindi si parte da uno stampo che è grezzo, che viene rifinito, ripulito, poi viene decorato, dipinto o aerografato, quindi viene fatto asciugare, poi viene rifinito nuovamente e quindi viene confezionato. Quindi ogni articolo viene maneggiato da almeno 4-5 persone, quindi la qualità a cui noi teniamo tantissimo è sempre assicurata da questi passaggi di cui non possiamo fare a meno per garantire che sia un prodotto di prima qualità, dalle paraffine ai materiali, alle materie prime utilizzate fino alla fine del processo.